Al termine della gara vinta 5-0 con il Gagliate, i nostri microfoni mister Massoni, si dice che il Gagliate sia un po' il jolly questo campionato, quando si incontra il Gagliate si dà per scontato che siano tre punti facili, ma di facile non c'è mai nulla nel calcio, la squadra comunque ha dimostrato attenzione e voglia e solo in pochi frangenti ha calato di intensità. Ed erano esattamente le risposte che mi aspettavo dai ragazzi, tant'è vero che alla fine del primo tempo gli avevo chiesto due cose, attenzione e fame. Nel primo tempo l'attenzione ce l'hanno messa tutti, la fame ce l'hanno messa solo capitano e vice, perché Martinetti e Ceretti hanno fatto un primo tempo dove comunque alla squadra hanno trasmesso proprio quello che deve essere il nostro modus operandi in questo periodo. Siamo calati poco di intensità e quindi è un buon momento, un viatico importante, noi il jolly vero e proprio ce lo siamo giocati settimana scorsa a Valdengo perché quelli sono tre punti importanti, adesso dobbiamo essere bravi a non sbagliare per si metterà perché secondo me grosso parte del nostro prosiegue in questa categoria dipende da queste tre gare. Oggi lo possiamo definire, concedermi una battuta, un big match, uno scontro diretto tra Gagliate e Fomarco nella classifica dei giovani che premia, a differenza che Fomarco ha effettuato una scelta mentre Gagliate si è trovato obbligato. Io comunque ho dato atto agli undici novaresi in campo la sportività e il modo in cui giocano le partite la domenica, direi che comunque è un problema grosso questo anche in un campionato di promozione quando succede una situazione di questo tipo. Forse il Fomarco sta tracciando una via che tante società dovrebbero seguire. Sì, e ti dico, in analisi a caldo, una delle cose delle quali vado più orgoglioso, nel senso che il Gagliate aveva in campo nove fuoricuota sulla formazione in partenza di cui comunque, adesso te ne cito, soltanto due al volo, Crini e Primerano, di grandissima qualità. Primerano da promozione l'anno scorso, Crini prima categoria l'anno scorso, ma molto bene. Quello che più mi è piaciuto è il confronto tra i nostri giovani e i loro, dove noi comunque abbiamo iniziato la gara con cinque fuoricuota. Dicevo prima ai tuoi colleghi che il sesto se l'è bruciato lui Borgo perché avrebbe giocato Borgo oggi, ma è arrivato da una settimana pessima, altrimenti abbiamo cominciato con sei. Questo confronto tra i giovani ci dice che siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta a livello di risultati, a livello di spirito, quindi continuiamo a lavorare, ma direi che stiamo facendo bene. Poi c'è stato due gol anche Celeste, questa settimana per me e per te sarà durissima. Sì, sicuro. Il discorso è che lui, non riusciamo a convincere che è un esterno di centrocampo, lui in questa cosa fa la sua battaglia personale, oggi ha pure fatto due gol, quindi diventa ulteriormente difficile, dirà che è una punta, penso, Celeste a questo punto. Beh, in una giornata così ci stava anche la chiosa finale scherzosa, cioè il fatto che lui dica che è una punta. Esatto, è assolutamente quello. Io sono molto contento di lui, avevo voluto anche un gol per Robby Balzani perché lui è uno che vive tantissimo per il gol, però per Celeste sono contentissimo perché è la firma a quanto ci sta dando in questo periodo e a quanto ci sta mettendo sotto il livello di impegno. Grazie, in bocca al lupo. Prepi.